E' scomparso un anno fa, Emiliano Mondonica. All'allenatore Pane e Salame di Rivolta Davila, era stato diagnosticato un tumore nel 2011 Si era quindi dedicato completamente al volontariato, allenando la squadra della Provo, composta da ex tossicodipendenti, e collaborando con il CSI Torino e Salame erano come seconde famiglie per lui e per la figlia Clara, che oggi, insieme al mondo del calcio, lo ricorda così E' stato l'uomo più importante della mia vita, lo amerò per sempre, mi ha insegnato tanto e continuerà a farlo anche se non c'è più Papà ci ha sempre lasciato un po' a margine della sua vita, ma soltanto non farci dispiacere quando le cose non andavano bene Un papà non solo per la figlia, ma per tanti giocatori che lo hanno avuto come allenatore, a partire da qui Con Zaghi che lo ha avuto ai tempi dell'Atalanta e con il quale vinse la classifica Camino Per noi era come un padre, ad Zaghi fa eco anche Enrico Ammione, come un donico ai tempi dell'Atalanta Il primo è presente perché è stato un vero amico, il ricordo di Cesare Cagliari I due hanno lavorato insieme all'Atalanta, nella parte conclusiva della carriera da calciatore del futuro allenatore del Geno, per me è stato compagno, allenatore e, soprattutto è stato una persona di una generosità straordinaria